Salome Pogo è libera ma non sorride. Come potrebbe dopo quasi quattro anni di prigionia? Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2014, 276 studentesse tra i 15 e i 18 anni vennero rapite dai miliziani di Boko Haram a Chibok, nel nord-est della Nigeria. La notizia fece il giro del mondo ma per molto tempo non si seppe più nulla, mentre una campagna mediatica globale e teneva viva l'attenzione. Poi pian piano le prime fughe e liberazioni, accompagnate da racconti di stupri e matrimoni forzati e indottrinamento all'Islam. Salome è stata ritrovata ieri a Pulca, non lontano da Chibok, ma ancora un centinaio di compagni restano nelle mani dei jihadisti, mentre per le 82 liberate nello scorso maggio il governo pagò di nascosto 3 milioni di euro, come raccontato nei giorni scorsi il Wall Street Journal. Oltre alle ragazze di Chibok, in questi anni Boko Haram, organizzazione affiliata all'Isis, il cui nome significa l'educazione occidentale è peccato, ha rapito migliaia di persone, anche donne incinte e bambini, per compiere attacchi suicidi in Nigeria e nei paesi vicini, spesso contro comunità cristiane. In tutto più di 30.000 morti. Ma forse sta perdendo colpi. Secondo fonti dell'esercito, che ultimamente ha lanciato un'operazione in grande stile, circa 700 prigionieri di Boko Haram sono scappati in questi primi giorni dell'anno. Anche se tornare alla vita quotidiana è dura. La liberazione è solo il primo passo.